Buongiorno, mi chiamo Monica e sono un collaboratore di servizi museali del Comune di Milano. Mi trovo oggi vicino a una grande opera senza titolo di Yannis Kunelis, conservata al Museo del Novecento. In questa installazione, realizzata nel 1988, si ritrovano tutti quelli che sono gli elementi tipici della produzione scultoria dell'artista greco ma naturalizzato italiano, come ad esempio il ferro, i sacchi in juta e la pietra. Alla fine degli anni Ottanta, in un momento di ritorno ai media tradizionali, Kunelis trascende la grammatica del quadro, ma nonostante questo vi allude. L'opera è concepita infatti per essere appesa e dunque fruita frontalmente. Sospese a 40 centimetri da terra, due lastri in metallo fanno da base a sei sacchi di juta, riempiti di terra ferrosa, sui quali poggiano pietre in travertino rese ancora più pesanti da due putrelle in ferro che sembrano comprimere tutta la composizione. È evidente come l'artista predeliga l'uso di materiali industriali uniti saldamente elementi naturali come pietra e limonite. Quest'ultima è una miscela di minerali ricchi di ferro e per questo ampiamente utilizzata dalle industrie metallurgiche. Le masse terrose di limonite, grazie al loro colore marrone e ocra, vengono impiegate anche come colorante, comunemente detto terra di Siena. L'opera evoca la lotta tra il naturale e l'industriale, una tensione che mantiene le tracce della lavorazione dell'uomo e del suo passaggio. Ogni aspetto della vita è degno di essere usato come opera d'arte, questo perché l'uomo e il suo lavoro stanno al centro dell'interesse dell'artista, un uomo che spinge per fare arte. Cunnellis riflette quindi in questa occasione sul concetto di storia, che è deposito di idee e suggestioni ma è anche un insieme di resti della memoria collettiva.